Tante occasioni dal tuo piede su punizione, una raffica di calci di punizione nel giro di qualche minuto, l'ultimo è stato quello vincente. Vai, raccontaci tutto. Prima o poi dovevo usci fuori, no? Tante punizioni, tante occasioni ci sono state sia da parte nostra che da parte del Pescara. Credo sia stata una bellissima partita da entrambi i lati, siamo due belle squadre. Qual è stata la cosa che vi ha messo più in difficoltà del Pescara? Sicuramente il secondo tempo, le loro ripartenze. Noi ci lavoreremo come ci stiamo lavorando ogni giorno.